Il governo Meloni, con un decreto del ministro Lollobrigida, ha autorizzato l'uso dell'esercito per abbattere gli animali selvatici. È una cosa incredibile da non credere. Il governo che dichiara guerra con l'esercito alla fauna selvatica italiana. In più ha bloccato l'installazione delle energie rinnovabili. In questo modo le bollette degli italiani continueranno ad essere care, un grande favore a Eni e tante altre società energetiche che hanno accumulato extra profitti per decine di miliardi di euro.